www.redigio.it e la storia continua miti e riti il sale del barbarossa il carroccio le colombe la cometa di giangaleazzo e l'aurora boreale sono qui un po la rinfusa un po dei misteri delle tradizioni e delle leggende di milano che non hanno un denominatore comune o lunghe vicende da raccontare ma costituiscono molto spesso episodi gustosi curiosi o anche drammatici della storia e della cronaca cittadina il sale del barbarossa è superstizione comune che quando si rovescia il sale si attirano le disgrazie o è comunque il cattivo augurio e quando barbarossa nel 1163 distrusse milano fece spargere del sale con quello che costava allora sulle rovine della città in segno di spregio di conquista definitiva e di totale annientamento invece poi si sa com'è andata a finire con la lega lombarda e milano per fortuna che ancora in piedi un altro mito il carroccio e le colombe proprio nella battaglia decisiva contro barbarossa si verificò un prodigio a legnano dopo alterne vicende le milizie della lega cominciarono a vacillare sotto le orde di federico quando alberto da giussano a capo dei novecento cavalieri della morte che avevano giurato a sant'ambrogio di morire piuttosto di cedere riuscì a capovolgere le sorti della battaglia a mettere in rotta l'imperatore nel momento culminante tre colombe bianche che altri non erano che i santi sisigno martirio alessandro volarono dalla chiesa di san simpliciano e si posarono sull'antenna del carroccio restandosi fino alla vittoria finale da allora i benedettini san simpliciano posero nel loro stemma le tre colombe bianche mentre barbarossa le avrebbe forse volentieri poste allo spiedo un altro mito la cometa di giangaleazzo nel 1402 l'undici febbraio comparve nel cielo di milano una stella cometa di eccezionale luminosità giangaleazzo era il signore di milano ed era al massimo della sua fortuna politica il popolo interpretò subito il fenomeno come un cattivo augurio per il visconti egli infatti morì di peste nel settembre dello stesso anno nel castello di meleniano dove si era rifugiato per fuggire il morbo oltretutto in una notte di tregenda per temporali e terremoti tanto violenti sicché pareva che il mondo si dovesse disfare un altro mito l'aurora boreale e sempre in febbraio il 23 ma qualche secolo dopo nel 1848 apparve nel cielo di milano un esteso bagliore di incendio era una inusitata aurora boreale milano era sotto il dominio degli austriaci e fermenti rivoluzionari correvano per l'europa dopo la rivolta di palermo anche a parigi e proprio quello stesso giorno aveva fatto le barricate anche in questa occasione il popolo interpretò il fenomeno come un cattivo augurio per chi ci governava e infatti le cinque giornate sarebbero arrivate da lì a poco www.redigio.it e la storia continua